Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del notiziario oggi dedicata al servizio di raccolta differenziata a Gela. Importanti novità in arrivo sulla organizzazione e la presentazione del nuovo piano è avvenuta questa mattina. Sentiamo. Partirà a Gela da lunedì 8 agosto prossimo il nuovo piano per la raccolta differenziata che prevede la raccolta del vetro con il sistema del porta a porta. Sono infatti in distribuzione dei secchi verdi per ogni famiglia per il conferimento del vetro che verrà poi ritirato ogni venerdì. Inoltre all'attuale calendario è stato aggiunto un altro giorno per la raccolta dell'organico, quindi potrà essere conferita il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 22 alle 5 del mattino. Il secco residuale non riciclabile dovrà essere depositato in un sacco trasparente il martedì. Carte e cartoni il mercoledì, plastica e metallo in un solo sacchetto, tutti i giovedì. A partire da lunedì parte inoltre una campagna di sensibilizzazione. Ci saranno in città tre infopoint. Il personale addetto fornirà ai cittadini tutte le informazioni utili per effettuare la raccolta differenziata, seguendo le regole che questa mattina sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Domenico Messinese e dal suo vice condelega all'ambiente Simone Siciliano. Gli infopoint saranno collocati in piazza, in via Rio de Janeiro e a Manfria. Rimane in ogni caso a disposizione dei cittadini dalle 8 alle 17 il centro di raccolta comunale, situato sulla strada statale 117 bis Gela Catania. Tre squadre di vigili urbani e del settore ambiente vigileranno sul territorio affinché le regole vengano rispettate. Ai trasgressori saranno elevate multe da 125 euro. L'iniziativa del cambio di calendario è volta a rimuovere dalle strade pubbliche i carrellati per la raccolta del vetro e dei metalli. Quindi è stato distribuito o è in fase di distribuzione ad ogni cittadino il secchio per la pattomiera per il vetro. È una pattomiera con un meccanismo di antirandaggismo per evitare che il vetro venga disperso per strada. Mentre i metalli verranno accorpati assieme alla plastica e conferiti nel classico sacco giallo che ora è un pochettino più spesso e servirà appunto per il multimateriale leggero, plastica e metalli. Ci sono dei numeri riportati sulle brochure, c'è sia il numero della Tecra ma anche il numero del comune perché è ovvio che questa amministrazione non vuole demandare alla Tecra il controllo totale di tutto quello che avviene sul territorio. Ci sarà un nostro duplice controllo su eventuali anomalie segnalate. Stiamo facendo una campagna informativa per far comprendere come fare la raccolta differenziata ma soprattutto cosa vuol dire abbandonare i rifiuti. Il problema fondamentale non è quello di prendere necessariamente le multe che forse potranno avere degli effetti sicuramente chi è che si preoccupa di essere beccato per una questione economica ma credo che in gioco c'è qualcosa di più. Qua c'è la dignità di ognuno di noi di vivere in un ambiente pulito e forse è la cosa più difficile che può sembrare ma credo che sia la cosa più logica che è quella invece di cambiare la nostra mentalità. Chiediamo massima collaborazione e è chiaro che ci sono delle nuove regole che devono essere rispettate. Ha dovuto attendere 11 anni Massimo Romano. L'imprenditore è finito nei guai nel 2005 con l'accusa di associazione mafiosa prima di poter ottenere dallo Stato un riconoscimento che gli restituisse la sua dignità. Adesso per lui all'epoca all'apice della squadra calcistica del Gela è arrivato anche un risarcimento danni pari a 120 mila euro una somma che comprende la quota per ogni giorno di ingiusta detenzione maggiorata del 25% ha scontato in carcere ingiustamente 233 giorni dal 15 dicembre del 2005 al 4 agosto del 2006 e poi ancora un anno fino al 25 luglio 2007 i domiciliari. Venne arrestato a 33 anni con un'accusa infamante. Nel 2007 arrivò l'assoluzione e poi ha dovuto attendere altri 9 anni per ottenere il risarcimento dell'indennizzo. Ha dovuto attendere la decisione della Cassazione appena qualche giorno fa e è arrivato un'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta. In un garage tra le palazzine popolari dello IACP a Gela stavano smontando i pezzi di un'auto risultata rubata. Così è arrivata la denuncia a piede libero per un 34enne e un 25enne e sono accusati di ricettazione. I due hanno alle spalle precedenti dello stesso tipo. Sono stati poliziotti del commissariato dopo un controllo a scoprire quanto stava accadendo. I due denunciati non sono riusciti a fornire spiegazioni circa la disponibilità della vettura. Nelle ultime settimane poliziotti hanno intensificato i controlli contro i furti di auto e moto che continuano ad essere segnalati con frequenza. Circa 30 chili di trigliola sono finiti sotto sequestro a Gela. Sono stati i militari della Capitaneria di Porta e gli agenti della Polizia e delle Volanti ad effettuare controlli su un mezzo utilizzato proprio per il trasporto del novellame. Le triglie sono risultate di dimensioni inferiori agli 11 centimetri e quindi escluse da qualsiasi attività di pesca. Nel corso dei controlli sono stati segnalati anche alcuni trasportatori che si muovevano su un pezzo già sottoposto a fermo. Il novellame è stato distrutto perché privo di qualsiasi riferimento d'origine. Adesso torniamo ad occuparci della vicenda relativa al porto-rifugio di Gela. Sentiamo. Riunione ieri sulla vicenda Porto fortemente voluta dal gruppo di lavoro Porto di Gela che da diverso tempo segue l'iter che dovrebbe portare l'infrastruttura locale ad una sufficiente funzionalità. Il tempo scorre inesorabile e le attività che orbitano intorno al porto sono ormai al collasso. E' emerso fuori che praticamente il sindaco ha detto che non c'è nessun progetto di project financing in essere quindi ufficialmente nemmeno esiste. C'è stata solo una proposta fatta lì così ma senza nessun progetto da vagliare. Quindi diciamo che Siciliano ha lanciato sui Max Media questa proposta non so da quale pulpito è uscita fuori, non siamo riusciti a capirlo. Non avevamo timore per un investitore che vorrebbe investire a Gela anzi che benvengano gli investitori a Gela ma per cose un po' più concrete, cose più serie. Non parliamo di un porto come quello nostro che da due anni si lavora per ottenere dei finanziamenti, per ottenere un progetto e oggi che è tutto pronto arrivare a un project financing, a fare che cosa? Non capiamo qual è il nesso di questo project financing per ottenere cosa? Una volta che abbiamo già i fondi reperiti da parte della compensazione, il progetto già esecutivo quindi non capiamo questo project financing a che cosa serve. che benvenga ma che vada a fianco al porto a farsi un nuovo porto e quindi presentare un progetto serio, valido dove verrebbe vagliato sul tavolo di lavoro al comune e quindi capire se può andare avanti. L'iter per quanto riguarda il porto di Gela è un po' ancora fermo perché il 28 giugno c'è stata l'ultima riunione a Palermo e dal 28 giugno ad oggi non è ancora arrivata la lettera d'intesa, quella che doveva arrivare dopo due o tre giorni massimo. Quindi sono passati circa 45 giorni solo per avere una lettera d'intesa. Quindi ancora non sappiamo esattamente i tempi, speriamo che siano brevi come ci ha annunciato il sindaco, quindi si metterà in moto immediatamente per riuscire a prelevare questa lettera d'intesa che è ferma a Palermo. Quindi oggi l'amministrazione comunale si deve solo impegnare ad accelerare semplicemente i tempi per quanto riguarda questa lettera d'intesa fra comune e regione e Eni. Aprima adesso la pagina sindacale, la Filcams CGL attraverso il segretario generale Emanuele Scicolone fa il punto della situazione per alcune vicende che riguardano lavoratori impiegati in diverse mansioni. Sentiamo. Si è svolto ieri su richiesta della Filcams CGL un incontro con il sindaco di Gela Domenico Messinese per affrontare le problematiche delle lavoratrici della società che gestisce il servizio delle pulizie di tutti gli immobili del comune. La società il cui contratto scadrà domani scrive in una nota inviata alla stampa Emanuele Scicolone, segretario generale Filcams CGL, ha comunicato su indicazione del comune che avrà una proroga del servizio con una riduzione di due giorni la settimana. Il sindaco si è impegnato su richiesta della Filcams CGL a fare ritirare l'atto e incontrerà la ditta lunedì al fine di comunicare che il servizio non sarà modificato. La Filcams CGL ha presentato anche le questioni che già dal mese di aprile costringono i lavoratori che svolgono il servizio di pulizie cimiteriali e tumulazione a cui sono state ridotte le ore lavorative da 3 a 1, scelta che sarebbe dovuta essere momentanea in attesa del nuovo bando producendo gravissimi problemi di sopravvivenza. Anche per questa situazione, scrive ancora Emanuele Scicolone, il sindaco ha promesso di intervenire personalmente per capire le ragioni che hanno spinto il dirigente a lavorare sul nuovo bando di gara che non è stato ancora completato e darà una risposta riconvocando la riunione entro la fine di agosto. Va precisato, leggiamo ancora nel documento, che parliamo di lavoratrici e lavoratori che percepiscono meno di 500 euro. La CGL prende atto degli impegni assunti dal sindaco e vigilerà finché logiche meramente economiche non prevalgano sulle legittime esigenze di sopravvivenza dei lavoratori. In caso contrario, la CGL metterà in atto tutte le iniziative più opportune per tutelare adeguatamente i legittimi diritti dei lavoratori. Il sindacato dalla Confederazione alle categorie non entra nel merito dei rapporti tra potere politico e potere amministrativo e cioè tra sindaco e dirigente della ripartizione. Una cosa è chiara, la questione da noi sollevata va risolta sia per i lavoratori che per la collettività, conclude il dirigente sindacale delle sigle Filcam CGL. Al via l'edizione 2016 del corso di iconografia ai volti della misericordia promosso dall'opera Pia Pignatelli Roviano di Gela e condotto dai maestri dell'atelier San Vladimir di Siracusa. Il corso formativo avrà inizio il 17 agosto prossimo e si concluderà il 27. Sono previste lezioni frontali e laboratori creativi. Le iscrizioni saranno effettuate mercoledì 10 agosto dalle 18.30 alle 19.00 locali di Via Feace, il seminario teorico pratico pervede vari livelli di studio con lezioni di teologia estetica e tecnica, oltre alla realizzazione di un'icona secondo l'arte antica bizantina. Direttore dei lavori sarà la dottoressa Mirella Roccasalva Firenze, maestra e iconografa e docente di arte sacra e iconologia. Il corso è un progetto ideato da Monsignor Grazia Labiso e dal direttivo dell'Opera Pia. Per informazioni c'è il numero di telefono 345-4106-243. Come avvocati del coordinamento regionale dei comitati non-Muos apprendiamo con viva preoccupazione della decisione del Tribunale del Riesame di Catania di dissequestrare il Muos. Lo scrivono in una nota inviata alla stampa i legali Paola Ottaviano, Nicola Giudice e Sebastiano Papandrea. Si tratta di una decisione grave giuridicamente errata. Al riguardo avevamo già sottolineato che il giudizio amministrativo si è occupato esclusivamente dell'intensità del campo elettromagnetico, non essendosi addentrato il CGA nella questione riguardante l'edificazione del Muos in area protetta e di assoluta inedificabilità, che invece è oggetto del procedimento penale. Peraltro la distinzione fra l'oggetto dei due giudizi è stata ben chiara. La Cassazione che aveva mantenuto il sequestro anche dopo la decisione sul punto da parte del CGA, scrivono ancora gli avvocati, preoccupa che l'impianto di uso esclusivo delle forze armate USA venga messa in funzione proprio ora coinvolgendo il nostro territorio nell'attività bellica già intrapresa dagli Stati Uniti. Leggiamo ancora nel documento, non può ignorarsi che per il diritto internazionale risponde delle azioni di guerra anche lo Stato che presta il proprio territorio per l'attività bellica svolta da uno Stato straniero. Tutto ciò avverrebbe ancora una volta senza alcun coinvolgimento del Parlamento in violazione dell'articolo 11 della Costituzione. Ci troviamo quindi in una paradossale condizione di coinvolgimento bellico deciso dal Governo e dal potere giudiziario senza alcun coinvolgimento del Parlamento. Speriamo ora che la questione sia rimessa alla Corte di Cassazione e che quest'ultima possa rettificare una decisione le cui ricadute sarebbero gravissime. Concludono gli avvocati Ottaviano, Giudice e Papa Andrea. Le famiglie gelesi degli alunni delle scuole statali e paritarie possono presentare istanza per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno 2015-2016. Lo ha reso noto l'assessore ai servizi sociali, Licia Bela. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata appena di esclusione entro il prossimo 30 settembre nella scuola frequentata dallo studente che provvederà poi a trasmetterla al comune di residenza. Per gli alunni delle scuole primarie, secondarie, inferiori statali e paritarie e invece ai liberi consorsi comunali, per gli alunni delle scuole secondarie, superiori statali e paritarie. Al beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore ma anche lo stesso studente, se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un ISEE, indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 10.632,94 euro. I moduli di domanda andranno ritirati nella scuola frequentata dallo studente oppure possono essere scaricati dal sito internet del comune di Gela. La libreria Mondadori di Gela, in collaborazione con l'assessorato alla cultura in occasione del settimo incontro dei venerdì letterari, martedì 9 agosto alle 19.30, presso l'Eschilo Lab, presenterà il libro Intimo ritratto di Valentina Mattia, edito da Araba Fenice. Dialoga con l'autrice e il professore Domenico Seminerio. Lettura a cura di Lucilla Anzalone, accompagnamento musicale a cura di Lino Costa. Fototessera di un ragazzo simpatico, e questo è il titolo del nuovo singolo dei Merce Fresca, il cui video sta facendo il giro dei social a suon di condivisioni, con circa 19.000 visualizzazioni. Il singolo, insieme a Mollo tutto e tempo, fa parte dell'album Oggi domani un concorso, arrangiato da Pierpaolo Latina, che ne ha curato anche la produzione artistica. Il gruppo, composto dal cantante Lorenzo Ciulla, Donato Emma alla batteria, Leandro Emma alle tastiere, Gabriele Migliaccio al basso, Michele Gangi al sax e Gianluca Genova alla chitarra, per quest'ultimo video ha scelto come location la Sicilia. La band, infatti, ha fatto il giro dell'isola, facendo tappa a Siracusa, Palermo, Catania, Grigento, inoltrandosi anche tra le bellezze dei piccoli comuni siciliani. Intanto è il terzo singolo estratto dall'album Oggi domani un concorso, è uscito quest'anno il nuovo album di Merce Fresca, ed è questa canzone che racchiude il terzo singolo, che non vedevamo l'ora di farlo uscire. In realtà è una canzone che esiste da anni, ma è stata modificata sia nelle parole che nell'arrangiamento, e finalmente nel 2016 siamo riusciti a inserirla nell'album e siamo riusciti a realizzare il videoclip tanto atteso principalmente da noi. Questa volta noi solitamente abbiamo realizzato i nostri videoclip a Caltenissetta, infatti se andate a sbirciare un po' su YouTube troverete tutti i nostri video realizzati nella nostra città. Questo qui invece abbiamo voluto fare un salto, un giro, un sogno che avevo in mente da un po', e l'abbiamo voluto realizzare in giro per la Sicilia. Grazie principalmente al nostro, ormai lo chiamo, regista di fiducia, un nisseno Alessio Abate che consiglia a tutti, ci siamo imbarcati in questi quattro giorni con più di 1300 chilometri e abbiamo realizzato questa follia da Siracusa a Marsala a Palermo, questo è l'armare del Golfo e non vi sto qui a citare le altre località perché dovete andare a vedere il video di Merce Fresca, dove o su YouTube o sulla nostra pagina Facebook. I Merce Fresca nascono qualche anno fa a Caltenissetta, per l'esattezza nel 2005, e canzone dopo canzone sono riusciti a conquistare i nissegni e non solo e continuano ad esibirsi condividendo con il pubblico la loro musica. Siamo diciamo in una piccola fase di tour in giro per la Sicilia, la prossima tappa è venerdì 5 agosto a Campobello di Licata, poi saremo l'indomani quindi il 6 a Sommatino, l'8 a Villa Rosa, il 12 a Pietro Berzia, il 19 ad Agrigento, piccola pausa e poi si ricomincia a settembre. Tutte queste sono piazze, quindi vi invitiamo a venire sotto il palco con i Merce Fresca, portatevi un cambio perché vi faremo sudare, questo è un po' l'inizio di quest'estate e poi vediamo a settembre cosa accadrà. Continuano i festeggiamenti in onore di San Sebastiana Gela, oggi alle 18 recita del Rosario, alle 18.30 Vespro e alle 19 solenne celebrazione eucaristica con la partecipazione delle autorità civili e militari, prevista la processione del simulacro in Piazza Santa Faustina, si terrà la benedizione con la reliquia. Il gelato è uno degli alimenti più amati da grandi e piccini, adesso lo si mangia tutto l'anno, però il periodo in cui si consuma maggiormente è sicuramente l'estate. Un vizio quasi peccaminoso per chi ha dieta, un ancora di salvezza per contrastare il caldo, un dolce fresco che chiude un bel pasto o una gustosa merenda, c'è sempre comunque un buon motivo per gustarsi un gelato. Un alimento molto antico e che negli anni ha modificato qualche dettaglio negli ingredienti, ma anche nelle fasi di preparazione. In passato si raffreddava frutta, latte e miele, addirittura le popolazioni che vivevano tra i ghiacci nascondevano il cibo tra la neve per la sua conservazione. Gli arabi preparavano i sorbetti, facendo raffreddare gli infusi zuccherati all'interno di recipienti, che venivano immersi nel ghiaccio e sale, una pratica che portarono poi anche in Sicilia. Alcune testimonianze parlano di un cuoco siciliano che perfezionò la ricetta del gelato e la portò in Francia, rendendolo famoso e facendolo apprezzare ai palati europei. L'Italia è il paese che più di tutte predilige la tradizione, pur non disdegnando l'innovazione e dunque gli italiani amano il gelato artigianale. La Sicilia non fa eccezioni, anzi, è la patria di granite e brioche col gelato, che piacciono anche ai nisseni. Gosti freschi, chiaramente, gelato al limone, le granite, gelati dolci, pistacchio. Preferibilmente al mattino con la brioche, è buono. Scelgo sempre la brioche, vecchio, sempre il pistacchio e non so. Di fatto, nei decenni, il gelato è entrato a far parte della vita di tutti. Ciascuno, però, modifica a modo suo la ricetta. C'è chi inventa varietà nuove, proponendo nuovi gusti. Le richieste particolari magari possono essere per quanto riguarda la granite di gelsi, la granite di cioccolato, dopo dei gusti particolari che noi facciamo ogni mese, che sono molto richiesti, ad esempio, gusto cheesecake, gusto cioccolato e peperoncino. Ad oggi, le varianti di gelato, che prevedono la sostituzione di alcuni ingredienti, per venire incontro anche alle diverse esigenze dei cittadini, sono sempre in aumento. Mentre in passato, chi soffriva di particolari intolleranze, come ad esempio quella al glutine, doveva rassegnarsi all'idea di non poter gustare un gelato in compagnia. Per lo sport, per il secondo anno consecutivo, il Volley Jail organizza il torneo nazionale Beach Volley FIPAV nella forma del King & Queen. A Lido controcorrente, dopo i successi della passata edizione, arriveranno 16 dei migliori atleti del panorama nazionale maschile e femminile. Nomi di punta che divertiranno il pubblico gelese fino a domani. Il torneo nazionale è animato da Alma de Cuba, di Massimo Cavallaro e dalla scuola di ginnastica artistica di Walter Miccichè. Bene, è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui. Arrivederci e buon weekend a tutti. Grazie per averci seguito.